E' in verità di tutta la scuola normale. Noi siamo molto interessati a questo tema, intanto alla collaborazione con la regione toscana, che consideriamo un elemento strategico del nostro lavoro e delle nostre politiche, e poi specificamente al tema della democrazia e a quello della partecipazione. Quindi è un tema che rientra all'interno anche delle nostre linee di ricerca, se voi vedete i corsi che sono tenuti qui alla scuola, o anche le pubblicazioni delle nostre edizioni, da ultimo abbiamo pubblicato i testi di Sembev di Tocqueville, cioè discutendo proprio della questione della democrazia. Poi stiamo anche mettendo in piedi un centro della democrazia per lo studio della democrazia insieme al Sant'Anna. Quindi, come dire, è proprio un tema nel quale la scuola si riconosce e che apprezza e che, come dire, vorrebbe anche partecipando a questa iniziativa potenziale. Come ho detto, il mio compito è quello di dare a tutti voi un cordiale benvenuto presso di noi, vi auguro quindi i migliori dei lavori.